buongiorno ragazzi buonasera ragazze oppure notte quello che volete voi buonasera come state ragazze spero bene allora nuovo video skin care perché questa volta ho deciso di farlo anche di notte la skin care sì o no eia non entrare capito lasciami stare allora eia me li sto lavando i denti tranquilla vedete un attimo per un minuto per me e nulla allora adesso prendo un dischetto di cotone e mi ci strucco il viso perché altrimenti non letto non posso andare col letto con il come dire non posso dare col trucco a letto quindi uso questa mia amata acqua micellare della garnier e mi ci strucco ragazze e ragazzi miei allora guarda questa parte perché ho lo specchio di qua voglio struccare sempre che io non ho in traccia mentre mi sto struccando anche prima ma lo voglio fare adesso scusate prima per tutte le romanzine che io ho fatto a mia mano ma era necessario allora adesso mi strucco anche qui oddio vedete quanto nero che c'è è brutto a vedere ma la verità è questo che c'è e questo mi tolgo nulla cosa ho fatto oggi sono uscita un pochettino non ho fatto anche sono uscita un po con gli amici e poi sono andata un po in giro per il mio paese non ho fatto vlog perché non avevo voglia ragazzi ho detto la verità volevo stammene un po in privacy veloci ed eccomi qua finalmente registrano via per voi a raccontarvi come l'ho passato oggi la giornata ma non male diciamo da non male per niente ok dunque mi devo anche spiegare perché oggi mi sta andando quasi sonno non so perché ma ho sonno vabbè adesso mi sto corrotta dunque ok ok nel collo perché proprio così a posto adesso mi chiedo questo boccetto qui e sono posto dunque ragazzi mi allora adesso mi sciacquo e ci vediamo dopo dai spottate adesso vado di crema crema qui questa per la notte o anche per il giorno come volete voi però intanto metto un po di crema tanto un po di cremina non guasta mica questa è all'acqua di rosa io non la vedo qua perché sono senza occhiali però potete fidarvi ora un massaggio per bene poi vi saluto anzi vi saluto già se questo video vi è piaciuto mettete un bel like di supporto un commento perché io trovo qualcuno colico è stato un video tra l'altro questo in prevenzione su instagram perché lì sono sempre più attiva e nulla e subiva ci vediamo appunto al prossimo video ragazzi via buonanotte a tutti e a tutti e noi ci si becca appunto al prossimo video comunque per lavarmi i denti ho utilizzato sto dentifricio qua questo della sensore anche mi ci trovo benissimo ragazzi troppo bene eccomi qua scusate se mi hanno interrotto ma l'altra volta le viene sempre a vedere e si preoccupa ma vera che so io cosa ha in testa i nonna però le nonne le nonne si mi occupano troppo per i miei gusti e già e niente io per esempio non vado a nascondere mi soffro il naso perché sono raffreddata un pochettino e si io così non metto la manza perciò uso gli occhiali oddio mi è un po' rastratto questo cosa ok beh si dai sono a posto per la notte diciamo che si sono a posto per stanotte e niente ribadisco se questa skin care vi è piaciuta ovviamente off camera l'ho utilizzato questa qui perché ho indotto era un'interruzione continua quindi capirete sapete bene che ogni volta che io continuo a interrompermi devo utilizzare questa qua e chiudere il cam comunque ho utilizzato questa qui all'acqua alle rose date detergente bella questa qui è molto buona e mi aiuta anche contro la pelle secca quindi top ed è 1,900 ml il prodotto vedete già e niente ragazzi questo era tutto se il video vi è piaciuto mettete like e niente quindi il prossimo video sarà come curano i capelli se vi può interessare e se no perché perché non parla lo stesso anche se non me lo chiedete farò il video che piace a me perché mi piace fare questi video e che dirvi buonanotte a tutte e a tutti arrivi di nuovo buonanotte e basta ora mi metto il pigiama e vado al mio buon riposo un bacio scusate e a presto ciao ah mai detto un like? l'ho già detto? non lo so non mi ricordo comunque lo ridico like 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 qua sotto commentate e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento sul mio canale youtube ok? ciao buonanotte o buongiorno dipende da coloro vedrete il video ciao ciao